Sono Miriam Brianza Guidotti e sono una consulente benessere. Ho partecipato al corso viso e in forma innanzitutto per me stessa, mi sono fatto un regalo e poi perché voglio dare la possibilità a più donne possibile, perché no anche uomini, di scoprire questa disciplina ancora poco praticata alle nostre latitudini. Il corso l'ho trovato molto interessante sia dal lato pratico che dal lato teorico, quindi abbiamo ricevuto tante informazioni teoriche che abbiamo subito potuto mettere in pratica con la pratica. Il percorso, la durata del corso è stata ottimale, il corso è stato via zoom ma siamo state seguite molto molto bene da da Petra. Cosa dire di Petra? Beh, Petra è una formatrice con i fiocchi, oserei dire, è molto puntigliosa, scrupolosa, è pignola, molto pignola ma è anche tanto tanto dolce, sa fare, diciamo, più che fare sa valorizzare le persone, sa mettere in risalto i punti forti delle persone e ti sa anche stimolare facendoti vedere gli errori, gli errori da non commettere. Quindi oserei dire che se stai pensando di fare o non fare questo corso, beh, io direi buttati. A me è piaciuto tantissimo.